Come puoi vedere gli FPS sono veramente bassissimi su Minecraft Quindi in questo caso, in questo video ti spiego come migliorare la grafica Come andare oltre i 1000 FPS su Minecraft Ed eccoli qua Ed ecco voi, 970 FPS, 1100 FPS su Minecraft Grazie a tantissimi metodi che ti mostrerò nel tutorial Quindi seguilo fino alla fine E mi raccomando c'è anche il pacchetto che bisogna scaricare per applicarlo sulla versione di Minecraft E migliorare così il gioco e fare più FPS e ottimizzarlo al meglio Quindi in questo caso per aumentare sempre di più gli FPS su Minecraft Possiamo sempre usare il pacchetto che ti ho lasciato in descrizione Che aggiungerà così un Optifine Ultra HD Che ti permetterà di ridurre, proprio ridurre la texture del gioco Togliendo l'occlusione ambientale Togliendo così questo tipo di grafica ovviamente molto sofisticata E quindi la riduce e aumentando anche gli FPS Da 100 arriviamo sui 900, 1013 FPS Quindi in questo caso andiamo direttamente prima nelle impostazioni Quindi andiamo su Opzioni Andiamo su Grafica Togliamo così il Vsync FPS limitati Distanza visuale 7 chunk e 44 chunk Transizione tra biomi no, molto semplice Particelle ridotte E la grafica semplice Basta, abbiamo finito Schermo intero Sì E facciamo fatto Una volta fatto Chiudiamo un attimo Minecraft Usciamo così dal gioco In descrizione ti ho lasciato anche il link che ti porterà sulla pagina Per scaricare l'Optifine 1.20.4 La versione, come ho detto, per migliorare la grafica su Minecraft E arrivare a oltre i 1000 FPS Scarichi così il pacchetto Se hai problemi con questo pacchetto Puoi chiedere a me nel server Discord Entra nel server Discord Scrivi a me e ti mando direttamente il pacchetto Java Estraiamo così il pacchetto Java con WinRAR Questa qua fa Extract to Optifine con WinRAR Mi raccomando con il programma WinRAR E uscirà così la cartella Questa è la cartella Ovviamente cosa dobbiamo fare con questa cartella? Andiamo in AppData Quindi scrivi Esegui Scrivi qua sopra Percento AppData Percento Entriamo in questa cartella Ora prendiamo i file che abbiamo scaricati E li inseriamo qua Quindi Prendiamo tutte le cartelle e i file Fai copia E li metti qua Li metti in Minecraft Ok? Una volta entrati in AppData Roaming Entri nella cartella di Minecraft E li metti qua Ok? Ok? Eccola qua Una volta fatta Se ti chiede di sostituire alcuni file Fai salva e sostituisci Ok? Chiudi un attimo qua Chiudiamo qua E adesso ritorniamo su Minecraft Quindi in questo caso La versione Optifine Ultra HD E' inserita su Minecraft Ed è anche modificata la versione Moddata Opzioni Vai su Grafica Shaders Dettagli Animazioni Qualità Prestazioni Varie Vai su Shaders Qui puoi inserire le tue shaders Puoi anche mettere delle shaders Veramente ridotte Che ti riduce così La grafica Aumentando ancora di più Gli FPS Sui dettagli Qui abbiamo Le nuvole Alberi Sole Mettiamo No No Semplici Altezza Nuvole Metti No Nebbia Semplici Ok Sì Cielo Stellato No Distanza Nella nebbia Metti 0.2 Colore delle paludi No Facciamo Fatto No Oltre fatto Vai su Prestazioni Renderizza Le aree Animazioni Smart Mettiamo No Se le abitazioni FPS Mettiamo Sim Aggiornamento Dei Chunk 1 Caricamento Casuale Metti No Rendering Veloce Varie Contatore Mostra FPS Contatore Lag Animazioni Acqua Fuoco Queste sono Quelle più Importanti Delle Animazioni Redstone Metti No 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 Metti Tutto No Tutto Ridotto Metti No E Fai Fatto Un'altra Fatta Giocatore Sim Entriamo Nel nostro Mondo Ovviamente Gli FPS Su Minecraft Sono Aumentati Da 100 A un Gran Numero Di FPS Come puoi Vedere 700 Se riusciamo Ad arrivare Anche agli 870 900 900 FPS Quindi In questo Caso L'Optifine Ultra HD Il pacchetto Che ti ho lasciato In descrizione Funziona Perfettamente Ovviamente Io ho una 1660 Super 32 GB Di RAM E un Render 5 3600 Come processore Non ho problemi Di lag E gli FPS Sono aumentati Di parecchio Su Minecraft Quindi Grazie a tutti Per questa visione E noi ragazzi Ci vediamo Ad un prossimo video Ciao